Imperia TV festeggia oggi 30 anni di attività. In occasione di questo importante traguardo, l'editore Francesco Zunino ha voluto offrire ai telespettatori un appuntamento esclusivo e di sicuro interesse. Domenica alle 21, nello spazio dedicato ai 30 anni di Imperia TV, trasmetteremo infatti il concerto della banda musicale della Polizia di Stato, che si è tenuto a 20 miglia in occasione della concessione della cittadinanza onoraria alla Polizia. La trasmissione vuole essere anche un segno di omaggio, gratitudine non soltanto verso i poliziotti, ma nei confronti di tutte le forze dell'ordine che tutti i giorni lavorano per il bene della collettività. Grazie a tutti!